bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono la pami e io sono la pami abbiamo due pami oggi abbiamo poca miseria tu sei rossita rossita meno male ben ragazzi ben ragazzi siamo qua come vedete alle nostre spalle su what the hen perché ragazzi è uscito poco fa lo sapete meglio di noi lo sapete meglio di noi è uscito il nuovissimo nuovo promo code ragazzi che vi regalerà delle carte rare oggi non parliamo di gemme non parliamo di oro ma parliamo di eroi ragazzi il nuovo promo code vi regalerà 5 carte rare che andremo a vedere nell'immediato spiega amore mio ai ragazzi dove devono andare dovete cliccare sul vostro livello di gioco esatto là in alto a sinistra una volta che avete cliccato dovete andare su codice promozionale cliccate e inserite il codice ah no no errore prima di inserire il codice ragazzi mi raccomando sto già girando le mani mi raccomando un bel pollicione in su per questo video se vi sta piacendo se vi piacciono tutti i video dei codici che portiamo oramai ogni settimana perché li stiamo portando sempre davvero bel like mi raccomando e iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto allora amore mio siamo arrivati siamo arrivati il codice ragazzi sweet brava sweet kid ragazzi scritto s w e e t kid invia codice uia arrivano 5 anna boomerang si chiamiamo 5 anna boomerang ragazzi vi ricordo che ha un'abilità speciale unica la nostra boomerang anna che è quella di appunto tirare il suo boomerang che va a colpire le truppe davanti a lei ma non si limita ad un attacco solo ben si torna indietro e le ricolpisce facendo quindi il doppio del danno beh ragazzi io vi ringrazio noi vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti qua con noi a guardare anche questo video dei codici e noi ci vediamo la prossima video ciao ciao